Ho imparato che pensare in grande è il primo modo per crescere. Ho imparato che essere furbi è facile, ma essere trasparenti conviene di più. E che in fondo sono le cose più semplici quelle che ti conquistano. Ho imparato che quando tratti argomenti importanti, essere chiari è fondamentale. Chiarezza, trasparenza, semplicità. I valori con cui vogliamo continuare a crescere. Wind. Più vicini.